Cari Nammer, benvenuti sul mio canale, oggi continuiamo il viaggio nell'anime Ken il guerriero, riassunti, siamo già ormai alla quasi novantesima puntata, no, settantacinquesima puntata, una cosa del genere, perché oggi facciamo la parte di Sauter e Shu, quindi siamo avanti, abbiamo incontrato Shin, Raul e altagente, spoiler, spoiler qua sotto, vedete, qui, quindi non vi lamentate poi nei commenti, sono Arcadi Nammer, benvenuti di nuovo, iscrivetevi, mi raccomando, supportatemi con un'iscrizione, un like, una condivisione, un commentino, un sacco di playlist, tanto di cinema, serie tv e anche di anni, quindi qualcosa che vi piace ci sarà sicuramente. Piccolo recap dell'altra volta dove siamo arrivati, dopo Raul c'è la piccola e dolorosa chiusura della storia di Ray, che è morto, salvando l'onore di Mamiya, affrontando Yuda e quindi si arriva alla nuova minaccia, che ovviamente deve essere di altro tipo, perché se Raul è stato messo un attimo da parte, Toki è alleato di Ken, deve essere della scuola di Nando, che Toki ci avverte subito, ci sono sei, sei grandi guerrieri, tre li abbiamo già conosciuti, Shin è morto, Re è morto, Yuda è morto, ne rimangono tre. Il più potente fra questi è Sauter, abbiamo visto che ogni combattente di Nando, quelli scelti, insomma, se non mi ricordo come, hanno una stella. Se Shin era la stella del sacrificio, re del dovere, Yuda del sadimento, che in realtà è della bellezza e dell'intelligenza, Sauter è quella della dittatura. E mi ha fatto ridere, già qua vi dico che è una parte che non ho apprezzato tantissimo, cioè non è brutta, però è leggermente insufficiente, forse qua si vede proprio che è un'aggiunta, mi pare un'aggiunta per allungare un po' il brodo, anche se è interessante alcune cose, però non mi ha convinto, e ora vi spiego il perché. Comunque, Sauter è la stella della dittatura, avremo Shu, che è la stella della benevolenza, e ne mancherà poi uno che abbiamo visto, mi sa, che era uno di quelli che commentano il futuro sconso fra Ken e Sauter, penso sia l'ultimo dei sei guerrieri, che però non hanno detto ancora il nome. Prima di arrivare a Sauter, però, dobbiamo dire alcune cose su altri personaggi. Abbiamo visto il dopo-rei, quindi, con Mamia che viene messa in panchina, Hailey pure, però, anche qua, iniziamo con un bel buco di sceneggiatura, però è una cosa che trovo eccessiva. Nonostante tutto questo, tutto quello che hanno visto, Lina e Bart, questi vanno in giro a cercare Kenshiro. Ancora, un mondo così pericoloso voi andate a cercare, lo posso capire all'inizio, ma ormai siete in un paese che vi protegge, più o meno. Avete Toki, avete Mamia, la gente si è mobilitata, ci sono i fiorellini che tanto piacciono all'Inna. Perché vanno a cercare Kenshiro? È un modo perché devono fare gruppo. Non funziona già questo, secondo me. Vengono salvati da un uomo di Nanto. Interessante, che è Shu. Interessante perché ci aspettiamo Kenshiro che arrivi e faccia... Invece no. E c'è questo scontro. Ah, e qua però si perde il... come posso dire? Il colpo di scena. Perché quando Shu si scontrava con Ken, noi non temiamo che Shu sia cattivo. A differenza di Rei che si scontrava con Ken e noi pensavamo davvero che lo volesse uccidere. Qua, avendo visto che Shu ha salvato Bartellin, si perde il colpo di scena. Vedi, l'ho gestito male. Quel colpo di scena non me l'ho mostrato ed è molto figo vedere lo sconto fra Shu e Kenshiro. Perché Shu ha la tecnica di Nanto, anche una delle mie preferite, quella del... che poi si vede anche meglio dopo. In realtà, cioè, ha l'eleganza di Rei, ma taglia le teste con il calcio volante con quell'eleganza. Si chiama com'è? Lairone? Lairone bianco di Nanto, di Shu, quello che cazzo è. Molto bello il colpo, uno dei miei preferiti. Shu poi gran personaggio, ne parliamo dopo magari. E qua c'è l'incontro con Kenshiro. È utile perché ci dà un po' del passato di Kenshiro. È ottimo questo uso, almeno, di flashback, perché è vero che noi siamo sul mondo apocalittico, però sarebbe stato bello fare un focus, anzi, io, il mio piccolo rimpianto è non avere un focus completamente sulla scuola di Okuto, la scuola di Nanto, ci saranno i fin sicuramente a farlo, questo lavoro, sono sicuro. Però, qua nella serie, quindi è utile mettere quei flashback che ci danno tanto. Andiamo sul nemico per poi andare su Shu. Perché? Il nemico è Sauter. Posso dire che è un villain un po' di riserva. È un po' del cazzo. E fino alla fine, dove si dà una spiegazione a certi suoi comportamenti, pare un gran coglione. Un gran coglione con grandi mezzi. Va bene. È anche un mezzo imbroglione. C'è appare un Jagger che se la crede tantissimo e che è senza motivazione quasi. Poi sì, c'è una spiegazione tirata per le orecchie, per i capelli, per il naso, ma è poco convincente, a partire dal fatto proprio strategico. Ok. Se vi ricordate, mi pare Shin rapisse gli uomini per farli costruire alla sua città. Ha senso. In un mondo senza risorse, tu rapisci gli uomini forti per fare quello che vuoi. Ok. Oppure ancora, Iuda, per lussuria, voleva le donne più belle del mondo. E quindi le rapeva e faceva le cose brutte. Ma c'era un senso. Va bene. Qua, Sauten. Sauter, come cazzo si chiama? Ah, no, non ho messo il bambino. Sauter. Che fa? Rapisce i bambini per farli costruire questa piramide. Non ce la fanno i bambini. Non hanno le forze necessarie. E il tutto si collegherà alla fine con lui che da bambino il mio maestro mi ha tradito per cui c'è un senso simbolico per cui lui e il bambino sono la stessa persona. Si vede alla fine guarda, sta morendo con gli occhi del bambino. Ho capito? Ma non ha senso. Non ha senso che tu fai costruire una piramide a dei bambini. Cioè, se ci fossero grandi, adulti e anche bambini allora lo posso comprendere. Ma non ha senso. E questo per rendere il cattivo più cattivo ma stereotipato. E se tutti gli altri villain avevano un qualcosa perché Shin era quello da disprezzare. Faceva una gran paura. Jagger era il il codardo che volevi picchiare forte perché era una nullità però che se la giocava bene la scaltarezza. Yuda era uno legato all'estetica alla vendetta anche all'innamoramento quindi alla bellezza aveva un senso. Raoul è quello serio grande guerriero che vive solo di quello. Toki è l'uomo diviso fra la violenza e la pace Kenshiro è l'eletto. Quindi ci sono grandi giustificazioni per questi guerrieri addirittura mi pare uno degli uomini più fedeli di Shin era sì quella specie di militare militare che sapeva le tecniche grande rispetto per quel tipo di guerriero ma questo Sauter che fa? È lo stereotipo dell'americano biondo scemo e forte che fa lavorare i bambini per costruire questa piramide non ha senso e il tutto poi viene giustificato alla sua potenza neanche per una grande tecnica sì c'è là il volo della finice di sti cazzi ma un imbroglio perché ha un segreto è interessante che nel primo sconto con Sauter lui vinca cioè Sauter vinca contro Kenshiro interessante anche perché così almeno si giustifica il fatto che Ken non vince dopo mezza puntata che lo incontri no? che poi vince dopo quattro capirai cioè vabbè però ha un senso ma poi non scopri il segreto e dici ah quest'è non ha il carisma di Raoul che dici cazzo ci vuole tempo per incontrarsi no? poi andiamo su Raoul e Toki andiamo a parlare dello sconto finale deludente perché scopriamo che Sauter ha il punto segreto ovvero che ha il cuore dall'altra parte quindi i punti segreti sono invertiti e quindi Ken lo scopre gli fa un culo così poi dice ah ma il volo della finice non potai resistere Ken gli tocca le gambe lui non si può muovere quindi è morto ciaone e saluti a casa è interessante ma neanche tanto quella piccola giustificazione del suo flashback un po' pietosino che qua vuole essere una razione come ho detto anche per iuda e il rei si vuole sempre giustificare comunque il nemico che merita rispetto ma qua forse il nemico non merita rispetto e quindi quella parte pietosa dove lui abbraccia il suo maestro la statua del suo maestro che ne fa un colpo risolutivo che è un colpo alla Toki che non fa soffrire l'avversario mi è sembrato un po' troppo onestamente hanno reso drammatica una storia che avrebbe meritato una cosa più action onestamente per il carisma di Sauter che non è niente di che alla fine partiamo dal presupposto che lui è alla stella della dittatura ma che stella è la stella della dittatura cioè è come dire lui è cattivo perché ha la stella della dittatura un conto è dire che tu hai la stella del sacrificio quindi puoi scegliere se essere cattivo o buono oppure hai la stella del dovere o hai la stella del tradimento anche là ma aiutate la gia dicendo no io in realtà è della bellezza dell'astuzia qua la stella della dittatura sei uno stronzo cioè c'è scritto qua sei uno stronzo non è interessante però a ribaltare questa pochezza del villain abbiamo Shu sicuramente Shu che ho perso una gione perché è uno dei sei guerrieri di Nanto che si lega con la storia di Kenshiro perché da bambino salvo la vita a Kenshiro perché c'è un Kenshiro molto giovane che si allena ah poi non ho capito una cosa si allenava contro quelli della scuola di Nanto e non erano delle amichevoli cioè erano sconti per ammazzarsi ok quindi Ken doveva vincere con tutti e si dice ah devi uccidere tutti i tuoi avversari ma in realtà non li uccide Ken se noi vediamo non li uccide li mena forte cioè non esplodono e niente invece Shu arriva sconfigge Ken che grazie al cazzo Ken aveva 12 anni quello non aveva 30 ed era ormai una delle sessere di Nanto e dice Sauter che al tempo c'era a fianco a Raul devi ucciderlo questa è la regola intanto gli altri non sono morti ma poi che senso a giocarti così gli eredi della scuola di Nanto e di Okut secondo me non ha senso vabbè ma sono guerrieri vabbè quindi Shu fa questo gesto che con la tecnica di Nanto si taglia le pupille diventa cieco e dice no questo sarà il grande erede forse il più forte e quindi non possiamo ucciderlo io diventerò cieco in cambio del mio non non ammazzare questo ragazzo no e lui è la stella della benevolenza e infatti ha senso che poi da grande cioè da anziano in realtà diventi il leader della rivolta contro Sauter perché aiuta tutti i villaggi dove i bambini vengono rapiti e aiuta Ken come detto c'è quello scontro Shu Ken che però non è bello come avrei voluto visto che sappiamo che lui è buono sai che figata tu pensi che Shu lo vuole menà e poi alla fine no Shu ha un finale splendido quanto drammatico perché Sauter ce l'ha proprio con lui visto che il suo opposto visto che Sauter era un coglione è un despota è uno monodimensionale Shu è il suo opposto e vuole che Shu dopo che lo ha sconfitto ovviamente Shu diventi la l'ultima pietra che sarà messa sulla punta della sua piramide e come lo fa cioè gli rompe i tendini e gli fa portare sopra questa pietra triangolare che poi metterà lui deve fare questa sorta di cammino cristologico con la croce qua è la pietra deve salire tutti gli scalini ma non deve far cadere la pietra se no i bambini moriranno è un modo per rendere più cattivo Sauter un po' più manipolatore vabbè ci sta dai un minimo di crudeltà e intelligenza gliel'hanno data per carità anche la morte di Shu è molto coreografata molto bella perché viene trafitto dalle frecce mentre arriva Ken per salvarlo e la pietra lo schiaccia molto bello un personaggio davvero di valore che rende sicuramente questa parte molto più interessante chiudiamo su Raul e Toki che hanno una piccola parentesi perché assistono essenzialmente allo scontro un po' alla Dragon Ball che commentano dagli spalti parlando al pubblico ma non solo si capisce che Raul tornerà perché è stato sconfitto no è stata una sconfitta alla pari con Ken anche se sembra che Ken abbia fatto più male a Raul che al contrario mi spiego Ken si riprende perché affronta Sauter eccetera Raul dice che non vuole affrontare Sauter perché ancora non si è ripreso del tutto quindi Ken ha fatto più male di Raul va bene allora assistono allo scontro e si capisce che Raul tornerà all'attacco e sfida Toki un giorno ci sconteremo e un giorno sfiderò anche Ken Shiro perché è il più forte in questo momento visto che ha scompito Sauter nessuno ci credeva visto che nessuno aveva scoperto il suo punto segreto anche se Toki lo sapeva perché non gliel'ha detto eh ma i grandi guerrieri non si aiutano a vicenda vabbè sarà per quello quindi Raul con la sua fierezza col suo re nero il suo enorme cavallo va e reclama vendetta Toki fa Toki possiamo dire di altro fatemi pensare un attimo ah sì chiudiamo sull'animazione vai perché non ne parlo spesso ah ed è un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire l'altra volta iniziamo da quest'altra cosa qua l'ironia sta scendendo piano piano inizialmente mi divertiva molto era un po' spaccone Ken e faceva le battute anche Ray capisco che il viaggio dell'eroe è così doloroso che non non abbia voglia di fare le battute anche se ogni tanto le fa in realtà ma molto meno e questo mi dispiace lo vorrei un po' più spaccone invece l'animazione è molto migliorata si si vede chiaramente non ci sono più quegli sfondi un po' da principiante non da principiante diciamo dove la qualità scende e però si è perso un po' di fantasia perché vi ricordate all'inizio quando c'erano gli sconti c'era sempre uno sfondo diverso molto surreale rosso blu verde eccetera adesso è molto più realistico il tratto e quindi è molto meno fantasioso se vogliamo un po' mi dispiace però alzando la qualità hanno deciso di essere realistici nel disegno e vabbè può funzionare non mi è piaciuto affatto l'uso dei colori che si fa nello sconto finale fra Sauter e Ken che diventa quasi uno sconto alla Dragon Ball perché nel momento in cui si scontano si vede che ha che ne so due chilometri i palazzi si frantumano grandina è eccessivo nel senso che sì se abbiamo visto un po' con Raul questa cosa mi era un po' accennata non sarà mai vista questa cosa prima onestamente mi sembra un po' troppo fantascientifico mi piaceva un po' più all'inizio con Shin che ci credi di più invece qua sembra che c'è non so Goku ottavo livello contro Freezer decimo livello no tutto questo ci vediamo alla prossima che non so di che cosa parli non credo sia ancora lo sconto finale con Raul o forse Raul Toki da quello che ricordo chi lo sa lo scopriamo la prossima volta ciao ciao